Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'intento c'è. Grazie a tutti. 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 Puoi si siedono. E si è. Hai 3 a 0. Hai tutti 4 davanti. Eh si. Dobbiamo farne bene. via la mia pagina o aiutare si semplice riporti la macchina con chi non si c'è la fede e la di qua fede ok il paladaride torna a torna a torna Tienilo, tienilo, esce, 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 tienilo, va bene Fede, va bene, vabbè, sono solo cinque, adesso entra a Shannon, subito, raga, sono solo cinque i falli, eh, minchia, ma però dopo rimane dentro, no, rimane Fede, no, poi dopo, quando è che sei uscito tu, a otto, che è entrato Davide, sono già passati otto minuti, eh, occhio Fede, occhio, Luca, questo fuori, questo fuori, questo fuori, Luca, questo fuori, passo avanti, passo avanti, Luca, passo avanti, giusto, fuori Luca, va bene, va bene, arriviamo eh Luca, tienilo, Luca, lascia lui davanti, lascia Davide davanti, eh, ma lui deve fare il controllo, dai, 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 fuori, bravo Fede, va bene, minchia, dai Luca, tranquillo, E' quello, Luca, va bene, dai, ce n'è dietro Fede, è quello dietro di te, Fede, ce n'è dietro, 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 Fede fa quello che c'è, vai, dalle, guardalo su, guardalo su, guardalo su, guardalo su, vai, vai Davide, proteggila, proteggila, vai, si Fede, vicino a sette, vicino, vicino, ancora, ancora Davide, bravo Davide, non fermarti, Seguilo eh! Seguilo! Seguilo! Oh prendi l'acqua! Qua sei fatto male e sei tutto stanco C'era quel ghiaccio? C'è il ghiaccio? No, io non ce l'ho, ce l'ho da... Eh, dai di lì! Damo il ghiaccio? C'è la ghiaccio? C'è la penna... Vai un po' più... Ma va un po' più... Ma va un po' più... Nè... E adesso non ho più l'acqua, va bene? Ogni volta che non si fa male e non si fa... Non puoi entrare? Sono sedici... Posso dire? C'è o Menfi o... Menfi, alla prossima! Ecco Menfi! Bravo! Va bene! Va bene, va bene! Ce l'hai qua eh! Davide, fatti vedere! Vieni contro la palla Davide! Bravo Davide! Vieni qua! Vieni qua! Adesso un minuto e fai scendere Davide eh! Davide è la prossima eh! Siamo a 17! Sì sì! Non mi dovete fermare! Giù la Sharon! Via! Sposatevi ragazzi! Menfi! Bravissimo! Ragazzi, sposatevi da qua però! Spero che non c'è più addosso qua! Ehi! Via! Via! Che sta fanno? Che sta fanno? Gino! 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 Solo eh, solo! Solo! Vieni! Vi danno! Vieni! Dai! Dai dai dai! Vieni! 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 Vai Vieni! 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 Tanto mancano 2 minuti, 2 minuti Menfi, ce la facciamo poi rientra Lui secondo tempo. dai 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 vai ancora dai dai raga occhio uomo ma perchè prima è venuto fuori spegnimento automatico e si è spento poi dopo l'ho riaccesa no 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 ma lui sta dicendo quello che ci ha fatto grazie 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 sono io come faccio a fare le riprese ieri c'era il mio film scusa non l'ho visto non c'è Grazie a tutti. 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 . a tutti. Allora. . a tutti. . a tutti. . a tutti. . a tutti. . a tutti.